I Popier tornano in Europa con il loro nuovo singolo Rex, una miscela originale di pop, rock senza compromessi. Per il tour italiano la band farà tappa il 24 gennaio presso il Marla di Perugia via Bartolo 11. Lo spettacolo comincerà alle 22. Rex è il primo singolo estratto dal loro album di debutto che uscirà nella primavera del 2017. Dopo il successo del 2016 il trio si lancerà in un secondo tour europeo che li vedrà di nuovo in Italia in Francia. Pierre-Luc Béam, Polype, We Are Wolves, la visual artiste Giulia Dela e l'attrice compositrice di Amper Fontaine sono i Popier, giovane trio canadese che ha debuttato lo scorso anno con Genius Instant EP di quattro abbrani pubblicato dalla Enterprise Record per l'Europa e della Leisman Luxe Record per il Nord America. Grazie per la visione!